Avete bombardato, ucciso, violentato e distrutto le piantagioni di marijuana dei nostri fratelli messicani, espropriandoli quindi delle loro antiche tradizioni commerciali, delle loro attività ricreative. Sappiamo quello che ancora una volta intendete fare, distruggere la loro droga, mettendo in ginocchio la loro economia, per gestire e approfittarvi della ricostruzione. Ma quando abbiamo detto facciamo di tutto per non attirare l'attenzione? Che cazzo ne è sfuggita voi due, eh? Le stacre scritture dicono che Mosè ne avesse fatto uso quando salisse un fila. Parla con me tesoro, noi femmine siamo più del caffè. Ho fatto delle cose. La principessa riconquista è il potere! Mi sento così stupida e panale in questo momento. Ti sta chiedendo soldi? Assolutamente no! Tu lo sai come andrà a finire questa storia, vero? Secondo te è morta? Spregami! Solo una domanda, ma noi, questa cazzo di droga alla fine, dov'è che la dobbiamo portare? Spregami! 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 Grazie.